...lo lancia in resta, pronto, eccolo qua, al secondo assalto, Nicola Salionetti per la Piazzarola, curva del Carmine, vediamo che la attraversa in questo istante, un po', sembrava anche un po' aver rallentato in quella curva lì, ricordiamo che oggi quella curva ha dato anche qualche problema, attenzione, incredibile, no, no, no...